primi tre il vincitore pubblico di tele liguria buonasera come state allora siamo qui in piazza brin perché io vi dovevo sì sono un po esterofilo io vi volevo presentare due ragazze meravigliose una è maraviso responsabile provviciare di teleton e l'altra è la bellissima è più bella di piazza brin la bellissima barbara pesarin bene oggi siamo qui in piazza brin perché siamo in piazza brin perché c'è il carnevale dei nostri amici a quattro zampe e oltre i nostri amici a quattro zampe abbiamo anche che cosa teleton eccola qua allora diciamo maraviso subito intanto mara grazie a nome di tutti i bambini che hanno bisogno di te che cosa ci puoi dire mara non hanno bisogno di me hanno bisogno di tutti quanti noi e oggi è una giornata solidale in mezzo alla gente e abbiamo dimostrato che insieme con piccole cose si possono fare delle grandi manifestazioni nello stesso tempo divertirci fare cose positive portare anche qualche soldo alla ricerca scientifica perché no grazie soprattutto all'impegno di persone come barbara che si prodigano per portare tante belle cose in mezzo alla gente bravo amore ti meriti un bacio bene e adesso una domanda viene d'obbligo anche alla bellissima che è chiamata la vichinga di piazza brin bene ok allora dici barbara per gli amici anche barbarella perché questa cosa creata qui voluta da te creata qui perché noi siamo qui come lavoro da da tantissimi anni mia nipote andava a scuola qui ha frequentato la scuola qui la chiesa qui e quello perché è nato per scherzo nel 2011 così in 448 e poi è scomparsa e l'abbiamo pensato di continuare visto il suo amore per gli animali a che fare questo carnevale che piace alla città dedicandolo a lei e io vorrei fare anche un ringraziamento e questo lo faccio dal cuore l'ho sempre fatto con Teleton a Tele Liguria Sud ai giornali che seguono le nostre iniziative quindi al secolo che ha patrocinato questa manifestazione e a tutte le altre testate e seguiteci seguiteci perché noi di Teleton abbiamo bisogno di voi ciao